Ma ma chissà Ma ma chissà perché la stampa Chissà Perché ti argomenti Chissà Non dice quel che accadde E dunque ti fa la pena Non hai dei vicenti Ma Chissà se la giustizia Chissà Ha proprio il suo dovere Chissà Se ti fa un po' a sinistra O tutta la carta a destra O per il suo potere Ma Chissà perché ti fa forza Chissà Ci premia e ci castiga Chissà Si alza poi si abbassa Se scuota resta fissa Ma me che me ne frega Ma Chissà se qui lavora Lavorerai nel tempo Chi sei disoccupato Se un posto confortante I piani del governo Ma Chissà se gli ospedali Sono meglio organizzati Se alleviano il dolore Chissà se con amore Ammazzano i palazzi Ma Chissà se la cultura È un gioco di opinioni Se i nostri professori Sono veri pensatori O male di coglioni Noi Noi parliamo Delle cose del mondo Discutiamo Sui problemi di fondo Concludiamo Non includiamo nel buio più tremendo E non passa mai la voglia di sapere Ma non c'è più il gusto della verità Forse ci sarà chi ha voglia di capire Ma si verrà i suoi di noi Chissà, ma Chissà se chi ha il potere Chissà, si occupa di noi Chissà, se inventa nuove cose Se pensa in qual paese Non fai da fare i suoi Chissà se i compaditi Chissà, di cui l'Italia fonda Chissà, nel nostro Parlamento Si può arrivare a centro per fare cifra tonda Ma chissà se il Vaticano Chissà, che alla bonta si ispira Chissà, a bracci poveretti Li benedice tutti ma non gli dà una nila Ma chissà se anche l'Europa Sembra così seria E' fatta per scontare, per farci comandare Per metterci in vicenza Ma chissà se anche la guerra Che ha vincito in mare A volte necessaria A volte umanitaria A volte un riso a fare Ma chissà, se il nostro Stato Ha qualche garanzia Chissà, se giustamente Fa schifo a guarda gente Questa democrazia Noi parliamo Noi parliamo Nell'impegno sociale Non perdiamo Neanche un telegiornale E approfondiamo Nel paos più totale Presi il mio disagio Ma non sono il solo Io sono sicuro che qualcuno sa Ci sentiamo tutti presi per il culo E ora di finirla con i fatti Chissà E ora di finirla con i fatti Chissà E ora di finirla con i fatti Chissà Grazie a tutti.